È un'altra splendida mattina sull'isola delle Pulcinelle di Mare. Un luogo perfetto per... Una! Hai interrotto la mia introduzione. Io sono una. Loro sono Rudy, Vera e Baba. Seguiteci. Venite a fare un giro. Sì! Voglio presentarvi alcuni amici. Isabelle, Marvin e Phoenix. Sono appena arrivati. Accidenti, non ricorderò mai tutti questi nomi. Non mi piace qui. Non è casa mia. Ma può sempre diventare la tua nuova casa. Che cos'è? È un uovo di Pulcinella. Uvito, uvito! È l'unico uovo che abbiamo. Oh, oh. Sembra che stia per arrivare una tempesta. Dobbiamo essere pronti! È successa una cosa terribile. Cosa? L'obetto è sparito. Come faremo a trovarlo? La tempesta è troppo forte! Tutti gli animali saranno in pericolo. Dobbiamo aiutarli. Questo è lo spirito. Gli amici si aiutano in ogni situazione. Amiche Pulcinelle! Amiche Pulcinelle! Forever and always Keep you safe and sound